Buonasera, ci troviamo alla villetta comunale di Taverna delle Rose, io sono Gian Paolo Di Francesco e insegno contemporaneo e passa a due nella scuola di danza non solo danza. Qui vicino a me c'è l'organizzatore Gennaro Melella e questa è la mia collega Lucia Faiella, insegnante di Baby Dance, Zumba, Moderno, Video Dance e Danza Classica. Queste sono le più piccoline e invece queste sono le ragazze che adesso faranno con me il laboratorio di danza contemporanea. I loro corsi sono intermedio e avanzato. Inizio il laboratorio della scuola non solo danza, di danza baby e di contemporaneo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Tutto questo non solo danza, giusti di crescenza. La scuola è sita in via Valsecchi numero 3, nei pressi del centro direzionale Battipaglia. invidiamo a tutti i genitori ad iscrivere i propri figli a queste bellissime discipline. tutto questo non solo danza. E io nella testa vi voglio ricordare che domani sera c'è Giuseppe di crescenza, ospite in billetta da noi. Grazie a tutti! 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 E la scuola è non solo danza. Nel campetto c'è il maestro Antonio Barba con i suoi allievi o i suoi colleghi, stanno facendo circuito e si stanno riscaldando. Dopo ci faranno vedere una bella esibizione di taekwondo. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, respiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, respiro. Ci vediamo? Sì, sì. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti